Finita l'emergenza mascherine, lo scivolone che non ti aspetti quando il consiglio comunale torna in presenza quasi a pieno regime. La mancanza di un voto nella maggioranza e per gioco del paradosso, l'assenza da quella del sindaco Ghinelli impegnato fuori Arezzo per motivi professionali ha fatto saltare il banco alla maggioranza e questo aspetto non è sfuggito alle opposizioni che sul regolamento da tempo insistono per cambiare le cose. particolarmente critico Marco Donati dice il Guarezzo. Sì la maggioranza non è riuscita con i propri numeri ad approvare le modifiche quindi è saltata, è stato questo punto all'ordine del giorno, è una cosa molto grave, di solito i regolamenti si cambiano tutti insieme, d'accordo, se non bastano addirittura neanche i voti della maggioranza allora c'è un problema politico. Questa città è autogestita? E mancava il sindaco? Il sindaco mancava per l'ennesima volta, ci stiamo abituando, è uno dei consiglieri che non ha consentito la sua assenza, l'approvazione di questo atto così importante. Anche su questo ci domandiamo, c'è qualcuno che guida questa città? C'è presenza del primo cittadino oppure forse pensiamo che la città possa essere governata da sola? La domanda è legittima e la maggioranza in questo momento faccia autocritica e ci dica se è ancora in grado di governare la città di Arezzo. Adesso però come ovviate? Noi proveremo a spiegare al Presidente che le modifiche al regolamento comunale si fanno tutti insieme e poi vedremo se questa rottura di città della maggioranza si ricompatterà e si avranno i numeri per cambiare le regole del Consiglio. Altrimenti il regolamento rimarrà quello che è stato per anni e torneremo tutti a fare in presenza come è normale il Consiglio Comunale. Comunque stavanti già c'è una buona presenza. Sì, forse sì, forse perché le critiche che abbiamo mosso come scelgarezzo spingono anche gli assessori a presentizzare al Consiglio Comunale. Forse si è capito che le istituzioni della città vanno rispettate e che il ruolo che si ricopre è un ruolo molto serio. Consiglio Comunale